Ma restiamo nello spazio perché partirà l'11 e il 12 aprile 2014 la seconda edizione della NASA Space Apps Challenge, una maratona globale per lo sviluppo della ricerca aerospaziale, cui parteciperanno ragazzi da tutto il mondo. Questa mattina l'ambasciatore americano a Roma ha ricevuto proprio un gruppo di giovani che partiranno il 16 novembre alla volta della Florida, dove il 18 assisteranno proprio ad un lancio dal Kennedy Space Center su invito dell'ente spaziale statunitense. Sentiamo proprio l'ambasciatore americano. Gli Stati Uniti sono felici di sostenere e incoraggiare questi tipi di ricerche e di progetti. Noi crediamo che non vi sia nulla di più importante che la tecnologia, la scienza e incoraggiare i giovani ad affrontare difficoltà e problemi, trovando poi le soluzioni, perché questo è quello di cui ha bisogno oggi il mondo, di maggiore coinvolgimento nella scienza e nella tecnologia. Il mondo ha bisogno oggi più attrazione, più attrazione in la scienza e la tecnologia. Grazie. Grazie. Grazie.